Questi mezzi volanti vengono sempre interpretati o allegoricamente o simbolicamente o metaforicamente e per lo più vengono definiti delle visioni, vengono definiti dei sogni. Siamo nel libro di Zaccaria il quale, al capitolo quarto, lui sta parlando con un angelo, un malak che gli spiega tutta una serie di cose e all'inizio del capitolo quarto dice il malak che mi parlava tornò di nuovo e mi svegliò come uno che viene svegliato nel sole. Quindi qui non ci sono dubbi, non possiamo dire che Zaccaria ha sognato, ha avuto delle visioni oniriche. E che cosa vede Zaccaria? Alzai di nuovo gli occhi, quindi il gesto è chiaro, guarda in alto e vidi un rotolo che volava.